Io sono Giovanna Letizia e ho 20 anni e faccio parte del gruppo spontaneo Liberazione Queer nato a dire il vero da pochissimi giorni fa, Liberazione Queer Messina. Siamo nati appunto, siamo attivati subito con la messa appunto in piazza di questa manifestazione nata essenzialmente come schiaffo morale a tutta la città. Abbiamo infatti saputo dell'ondata di manifestazioni restiamo liberi appunto contro il BDL Zanne quindi è come se fosse automaticamente a favore dell'omofobia visto che questo decreto legge proposto appunto da Alessandro Zanne non si propone altro che modificare due comma all'articolo 604 del codice penale ossia appunto raggiungere il reato di omofobia o di istituzione all'omofobia. Quindi nessuna privazione della libertà di nessuno? No, nessuna, ecco non si mina la libertà di nessuno, anzi paradossalmente viene anche difesa viene difesa anche l'eterosessuale, per chi chiama all'eterofobia potrebbe anche essere difesa dalla persona eterosessuale perché viene chiaramente questo decreto legge prevede che nessuno venga discriminato sulla base di orientamento sessuale, l'eterosessualità è un orientamento sessuale e quindi anche le persone etero possono essere difese paradossalmente da questo decreto legge. Ora purtroppo il problema di queste manifestazioni restiamo liberi è che purtroppo mettono in campo molta disinformazione, motivo per cui noi di liberazione qui per quanto riguarda il settore comunicativo abbiamo messo in campo appunto sui social delle pillole nelle quali ci occupavamo di smontare uno a uno i vari commenti che abbiamo anche ricevuto anche su Facebook riguardo eventuali bufale su questo DDL Zana anche mostrando con dati alla mano appunto il DDL appunto nella Camera dei Deputati è pubblico quindi insomma ci siamo permessi di... E' anche abbastanza chiaro, sono fette punti, credo, molto... Esattamente, è molto schevato, è chiarissimo, non lascia spazio a ulteriori dubbi, motivo per cui noi siamo ancora veramente ancora più increduli del fatto che si è scatenata questa giornata di Restiamo Liberi, motivo per cui lo slogan di questa manifestazione è Restiamo Liberi per davvero, cioè liberiamoci da queste persone disinformate che mettono in campo disinformazione e anche bile, motivo per cui siamo qui appunto per dare questo schiaffo morale di liberazione queer per quelle centinaia di persone che potevano essere ecco che hanno manifestato il 18 luglio. Come si svolgerà la manifestazione? La manifestazione si divide, intanto sì, come nota appunto ci sono vari interventi, li possiamo dividere in due parti, i primi appunto schematizzati, io sono intervenuta poco fa, appunto schematizzati per seguire quantomeno un film rouge ecco insomma e poi questa è la prima parte, intervallata da una performance in canto appunto da una ragazza e in seguito ci sarà un open mic, ossia chi vuole intervenire potrà tranquillamente farlo, chi ha una storia da raccontare, questa qua è una piazza sicura come ha anche ribadito Michelangelo che appunto ha intervenuto all'introduzione dell'evento, è una piazza sicura sia letteralmente per far rispettare le norme anti-covid sul distanziamento appunto con l'anti-covid, sia appunto umanamente, cerchiamo di essere sicuri per tutti. Grazie mille. Ti chiedo a chi starei facendo del male o se volessi cambiare nome e volessi farmi chiamare che so, Emma, a chi starei facendo del male, a chi toglierai qualcosa, chiedetevi questo, perché chi ci avversa ha paura della nostra libertà? Siamo scomodi, sì, siamo non conformi, andiamo oltre i camoni tradizionali, mettiamo in discussione quello che è consueto, ma noi, proprio noi, siamo qui per la libertà, quella vera, quella per tutti.